buona mattina buon pomeriggio buonasera buonanotte e benvenuti in questo breve video cerco di farlo il più breve possibile in cui prima di lasciarvi vi darò alcuni suggerimenti su come affrontare al meglio e quali cose secondo me sono più o meno utili da fare nel momento in cui andiamo a giocare a The Forest ora la mia base più o meno la conosci tutti quanti perché l'avete già vista infatti non parlo di base parlo di come cominciare il gioco vediamo qua dobbiamo aspettare qua allora come cominciare il gioco ci sono alcune cose che io vi suggerisco di fare fin dal principio perché vi aiuteranno moltissimo sicuramente il water collector e il questo serve per essiccare la carne e si chiama secondo solo devo andare a vedere allora uno di tutto è sicuramente il water collector e il draining rack che vi aiuterà molto per il discorso si buongiorno vi aiuterà molto per il discorso del cibo e dell'acqua come vedete poi cercatevi un posto sicuramente vicino all'aero perché l'aero vi da protezione e vi da soprattutto molti molti materiali tipo le valigie che ogni volta che rilogherete risponeranno quindi può aiutare una buona cosa un'altra cosa che vi suggerisco di costruirvi è fin dal principio è il ve lo mostro subito è un container particolare che si chiama log sled un attimo è questo? secondo solo sì in teoria è il log sled sì sì il log sled eccolo qua voi con l'aero posizionate ci vorranno 21 stick io li ho preventivamente preparati un po' di stick che sparo siano sufficienti non mi sa che non saranno sufficienti ma va bene questo che cos'è? è una specie di carrello di di slitta che vi permetterà di trasportare i wood log in modo molto molto più efficiente ora vi mostrerò in breve come funziona perché logicamente all'inizio potrete andare a recuperare i wood log vicino a casa poi non potete più farlo quindi io vi suggerisco altamente di farvi questo questa slitta perché veramente ne vale la pena e vi è utilissima ok prima di costruirla come funziona con la E la prendete e ve ne andate in giro potete correre a destra e a sinistra andate con A e D una volta che io mi trovo in un posto dove voglio gatterare la mia legna con la E mi stacco vado a tagliare l'albero che voglio andare a tagliare qua tagliamo tacate tacate spero di avere abbastanza stamina si dai stamina stamina non ho mai capito come si dice finiamo qui dai cavolo quanto ci vuole un albero ok cadrà di là quindi dovremo correre anche perché i i log rotoleranno come un normalissimo stack come un normalissimo contenitore con la C li mettete giù e come vedete potete trasportare più non so se è saltato qualcosa perché non so se erano tutti lì vabbè ecco io mi sono perso un attimo accogliamo un po' di roba qua eccolo qua ok quindi voi potete tranquillamente andare a depositare questi oggetti ve ne staranno se non sbaglio sei dopodiché una volta che avete riempito il vostro attrezzo bene i comandi ci si apre guasta quindi non vi preoccupate andate fino a dove avete la vostra base e qui potete tranquillamente scaricarvi la roba e mettere nei vostri container questa cosa molto interessante per cominciare anche perché ci vogliono pochi stick li recuperate da niente e credetemi è molto molto utile un'altra cosa suggerirvi partiamo dal principio suggerirvi vi posso suggerire innanzitutto trovatevi un posto vicino all'ero trovatevi una pianta che non abbia rami in mezzo alle scatole perché questo vi eviterà di avere problemi poi di visibilità perché se vedete qua adesso io salgo questo era una pianta pulita vedete con le foglie solo in cima e qui abbiamo tutta la zona un po' la cosa ma pulita molti alberi tipo anche altri tipi di alberi tipo questi qua davanti se le fate sui tronchi con le foglie vi troverete le foglie in mezzo alle scatole non crea nulla di che non ha niente sul gioco cioè non vi darà deficit deficit o malus però vi darà fastidio agli occhi un'altra cosa agli occhi alla visibilità quindi vi succederanno questo tipo di piante qua che hanno solo foglie nella cima poi trovatevi un posto vicino al mare se possibile e controllate che ci sia uno stagno se avete lo stagno potete sia bere che potete sia bere che trovarvi del cibo con i pesci che ci sono dentro se non avete lo stagno vabbè cercate vicino al mare non avrete l'acqua potabile ma avrete le tartarughe da uccidere e prendere i contenitori dell'acqua altro dirvi costruitevi delle difese abbastanza chiuse non io non vi suggerisco di fare grandi perimetri fatevi un perimetro piccolo poi capisco ci sarà un po' di casino come vedete qua corpi ce ne sono a non finire perché ogni notte ne faccio 5, 6, 7 quindi se vedete di effigie ne ho ogni dove però questo vi dà la possibilità di avere non solo carne fresca da mangiare voi ma anche da fare effigie da procurarvi poi fare quello che volete vedete qua abbiamo morti ovunque perché ieri ci siamo andati da fare stanotte ci siamo andati da fare niente io non ho niente altro da dirvi questi consigli sono finiti volevo aggiungerlo al non so se lo aggiungerò al video finale o se in realtà lo farò in parte non lo so credo lo farò a parte sono dei consigli di gioco veloci per come cominciare a giocare a death forest io vi ringrazio ancora e ciao a tutti oh mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace commentate dai 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 ciao a tutti